Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Italia, la notizia ha lasciato tutti senza parole. L'ennesima tragedia, l'ennesima vittima della strada in Italia, che nell'ultimo periodo si sta troppo spesso dipingendo di rosso. Alessio è morto nello schianto e la sua morte ha lasciato la comunità senza parole. In particolare, la provincia di Latina piange purtroppo un'altra vittima delle strade, un giovanissimo. Si tratta di Alessio Mancini, 22enne di Itri, che ha perso la vita nella notte mentre era alla guida della sua moto e percorreva la strada per Sperlonga. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo si è scontrato con un'auto guidata da un ventenne. Per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Per la comunità di Itri oggi è un giorno di lutto. Alessio Mancini era un giovane impegnato in politica, coordinatore del Movimento Giovanile di Forza Italia nel comune di Itri. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità e questa mattina sono comparsi decine di messaggi di cordoglio sui social, che ricordano l'impegno del 22enne.